Quando ho iniziato a utilizzare l'online per promuovere la mia attività, per guadagnare di più, per mettere a leva le mie competenze, mi sono detto, mi sono sempre detto e ho sempre pensato, questi sono gli anni più belli dove nascere. Abbiamo una connessione internet e con quello che sappiamo possiamo vendere le nostre competenze. Io, per chi mi segue lo sa, lo dico sempre, qui siamo all'interno della mia casa discografica, la fame i dischi, non so se l'ho mai detto il nome, etichetta attiva dal 2011 dove io in quegli anni facevo il cantautore e mi sono messo in proprio e ho aperto l'ufficio staff, ho iniziato a lavorare nella musica, ma poi alla fine del 2016 ho aperto il canale, cioè il canale YouTube era aperto, ma ho iniziato a fare video prima su Facebook e poi su YouTube e ho iniziato a vendere corsi dove insegno ai musicisti a fare il mio stesso percorso per tutti quei musicisti che si sentono anche imprenditori, che vogliono aprire un'etichetta discografica, che vogliono lavorare nella promozione. C'è tanto lavoro da fare, molto spesso i musicisti non sanno neanche come promuoversi e quindi hanno bisogno di persone esterne che promuovono i loro progetti, quindi c'è tanto lavoro perché di musicisti ce ne sono una marea, ogni giorno nascono persone con velleità artistiche che vogliono e registrano perché gli strumenti per registrarsi, per registrare la musica sono diventati accessibili a tutti, quindi esce una marea di musica e quindi c'è un sacco di lavoro e questa è un'opportunità che poi ho condiviso anche insegnando come coglierla ad altri. E questa cosa è la potentissima, è potentissima, che cosa ti permette di poter insegnare agli altri? Ciò che sai è di poterlo vendere. Bene, l'online, e mi sono sempre detto ma vedo i miei coetanei che si lamentano, ci sono state una marea di crisi, di problemi economici, no? Io ho iniziato a mettere i video, cioè alla fine ottobre del 2016 su YouTube ho preso piede maggiormente ma ne avevo iniziato molto prima su Facebook, era il 2016, ok? E lì pensavo, wow, ma questa roba posso creare delle pubblicità su Facebook che mi permettono di raggiungere le persone che hanno manifestato interessi in ciò di cui mi occupo quindi posso far arrivare un messaggio ben mirato a persone che mi conoscono gli posso far lasciare i dati regalando qualcosa e poi con email marketing, con offerte posso monetizzarli e vendergli dei prodotti che gli servono ma chi ti dava queste cose prima dell'avvento dei social di internet? Nessuno! Quindi io dico, ma wow, ma vuoi mettere? Perché non stiamo parlando soltanto di soldi, stiamo parlando della qualità della vita ti gestisci tu, ok? Quindi questo canale YouTube Michele Maralino Business nasce per condividere tutto quello che ho imparato ed è assurdo, vi ringrazio infatti che sta crescendo molto velocemente ma perché sto veramente parlando della mia esperienza a titolo completamente gratuito qui trovate anche corsi che parlano proprio di questo, delle opportunità ragazzi che ci sono e quello che riflettevo in questi giorni con l'avvento di ChatGPT 4 è che le opportunità, la cosa figa dell'online cioè è ancora meglio adesso, è ancora più facile con l'aiuto dell'intelligenza artificiale poter sviluppare un progetto online ma ci stiamo rendendo conto non hai bisogno di niente se non di ChatGPT ok? Con la versione 4 puoi fare qualsiasi cosa, l'abbiamo visto in questo canale YouTube vi metto la playlist ChatGPT come guadagnare con il sottotitolo come guadagnare con ChatGPT 3 e ChatGPT 4 addirittura è più semplice adesso fare monetizzare online puoi fargli scrivere dei libri, puoi fargli scrivere dei video puoi creare dei canali YouTube dove guadagni con la monetizzazione puoi vendere dei libri su Amazon puoi creare un'agenzia quella dell'agenzia è incredibile puoi creare un'agenzia marketing nel senso che ti proponi alle aziende dicendo guarda ti posso fare il canale YouTube della tua azienda ti posso fare il blog sviluppiamo una presenza online faccio tutto io puoi gestire cash cash channel abbiamo visto tutte queste cose in questo canale YouTube ma tu devi assolutamente prendere in considerazione l'idea di lavorare in questo senso perché purtroppo la gente la maggior parte delle persone a parte chi guarda i video su YouTube che poi YouTube è una grande scuola una grande palestra possiamo studiare anche se c'è tanto rumore intorno bisogna stare attenti però ti fa scoprire delle cose nuove però la maggior parte delle persone è ancora bloccata dalla ruota del criceto ed è assurdo considerando la tecnologia che passi di gigante fa tu prima io prima mi esaltavo perché c'era Facebook e potevo fare le pubblicità perché potevo creare il mio corso potevo creare un prodotto potevo insegnare qualcosa attraverso un metodo che trasferivo attraverso delle video lezioni e una volta registrato lo potevo vendere xn si dice così un numero innumerevole un numero innumerevole lo potevo vendere migliaia e migliaia di volte e generare profitti impensabili venendo io da un'educazione dove la tua ambizione doveva essere un posto fisso dove due milioni di lire ve la ricordate la lire? forse i più grandi se la ricordano comunque 1200 euro 1500 euro al mese 2000 euro al mese la gente firmerebbe non so perché quando sul piatto ce ne sono migliaia e migliaia e migliaia e sono però non abbiamo l'educazione finanziaria non abbiamo siamo veniamo allevate la maggior parte delle persone vengono allevate proprio alla povertà mentale è un macello eppure dall'altra parte le opportunità divagano cioè divampano non lo so scusate per l'italiano ma aumentano tu prima poteri ok creare i tuoi prodotti le tue consulenze farti conoscere ma anche il semplice creare dei contenuti fare l'influencer collaborare con le aziende è un lavoro che ti fa esprimere non è soltanto che guadagni tanti soldi ma è un lavoro pagante dove tu ti puoi esprimere un lavoro creativo oppure puoi creare la tua azienda online un e-commerce fai la pubblicità con i social raggiungi praticamente il tuo pubblico il tuo target pubblicità su facebook su youtube puoi fare quello che vuoi devi soltanto studiare questo mondo ok ma adesso è ancora più facile è ancora più facile con l'intelligenza artificiale ogni singola parte che ti serve per sviluppare un business online la può fare c'è GPT per te e scrivimi la pagina di vendita e scrivimi l'articolo e scrivimi il video e scrivimi le mail e te le scrivi con cia GPT4 di una qualità pazzesca quindi non ci sono scuse ragazzi non ci sono scuse veramente io ti invito ad iscriverti a questo canale guardare i video ci sono corsi gratuiti puoi fare poi vedo i commenti della gente che è negativa che dice non so cosa io io ve lo cerco di trasmettere in ogni video c'è veramente è sempre meglio dal punto di vista dell'online dal punto di vista delle opportunità io non pensavo che si potesse andare meglio di dei social del fatto che puoi farti conoscere puoi raggiungere un pubblico interessato a quello che ti piace così attraverso il telefono che hai in tasca invece di stare a rimbecillirti non so più parlare invece di stare passivamente a guardare puoi attivamente creare i tuoi contenuti ma finalizzati a farti conoscere a vendere il tuo servizio il tuo prodotto io pensavo che meglio di così non si potesse fare e poi è arrivata l'intelligenza artificiale che mi ha fatto esplodere il cervello e quando io qui faccio mille progetti mi sbatto sto qui registro i video cerco di condividere parlo di qua di là la gente che vuole fare poi esco fuori nel mondo reale c'è la gente triste triste perché guadagna poco lavora tanto per quattro soldi e io gli vorrei dire ma cavolo cavolo non è normale ci sono una marea di opportunità da sfruttare devi solo aprire gli occhi